È indagato per la sospetta alterazione di due test per la positività alla cocaina rilevata da altrettanti automobilisti. Il GIP Elena Lazzarina ha colto la richiesta di interdittiva per il chimico dell'Istituto di Medicina Legale di Padova. Il professore non potrà esercitare per quattro mesi in alcuna struttura pubblica. I legali del medico hanno chiesto l'incidente probatorio sui campioni sequestrati. Il medico è stato il primo iscritto nel registro degli indagati dopo le perquisizioni dello scorso 21 giugno. Le indagini hanno messo sotto la lente l'Istituto di Medicina Legale e sono partite dopo un esposto anonimo. L'attività investigativa ora sta procedendo per capire se questi siano gli unici casi o se ve ne siano degli altri.